Una gravel in acciaio da Pierangelo Liotto, perché l'acciaio per il gravel? Buongiorno a tutti noi facciamo le biciclette in acciaio in alluminio e anche in carbonio il gravel però per me è quello il materiale quello più corretto questo è un acciaio appunto che si costruisce anche su misura oltre già alle taglie che abbiamo a catalogo e ha questa particolare verniciatura che la rende molto resistente. Nella zona sterzo e movimento centrale utilizziamo calotte esterne e filetti quindi questo dà molta sicurezza anche per il futuro e anche poca manutenzione. Voi fate te la in tutti i materiali praticamente? Certo, però naturalmente questo dettaglio qua viene fatto, mi hai detto, su misura viene costruito su misura, anche su misura, montato con tutti i gruppi che ci sono in commercio quindi potrebbe essere montata con il Shimano GRX 600, con l'800, con i gruppi elettronici anche da Zvram, ok, scusa, Zvram oppure anche l'Ecla Campagnolo. Perfetto, grazie.